58 anni, avvocato con la passione per la politica, a 13 anni era già iscritto alla Giovanitalia, si è iscritto al partito del Movimento Sociale Italiano, poi diventato Alleanza Nazionale, dal 95 al 2002 è consigliere comunale ad Ascoli, dal 2002 al 2009 è anche vice sindaco del Comune, poi è eletto consigliere regionale nella lista di Alleanza Nazionale, attualmente è presidente del gruppo consigliare Centro Destra Marche Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, stiamo parlando di Giulio Natali. Buongiorno. Eccolo qui, buon pomeriggio, ben ritrovato a 45 giri, allora una piccola presentazione del consigliere regionale uscente, perché ci saranno le elezioni a breve, a maggio per la nuova consigliatura, si voterà ed è un po' in fermento l'intera regione per questo voto, a destra e a sinistra, soprattutto a sinistra. A sinistra, nel centro-sinistra c'è una lotta, io oso dire, una lotta tra bande, con il fatto che Spacca ha spaccato con il centro-sinistra, il PD non è riuscito ad arrivare a una candidatura unitaria, che era quello che voleva Spacca, che voleva evitare Spacca, diciamo, e oggi ci troviamo di fronte a delle primarie per il primo marzo in cui non ci sembra che si confrontino due sistemi di politica diversa, di amministrazione diversa, due blocchi. Lo vediamo in tutta la regione, per quello che vediamo noi nella nostra vallata, nella nostra provincia, le rivalità all'interno del PD hanno fatto sì che i due rivali che ci sono nella vallata, uno starà con Ceriscioli e uno starà con Marco Lindici, ma in nome di che cosa? In nome del fatto che evidentemente ognuno dei due primatori della politica della vallata del Tronto, del centro-sinistra, cercano di tutelarsi sotto una chiesa. E allora questo non è un buon modo di fare politica, a mio avviso, perché non capisco qual è la differenza. Se dietro Marco Lini si dovrebbe nascondere il nuovo, facciamo l'esempio di quello che vediamo dalle nostre parti, Canzian è con Marco Lini. Io non posso non verificare che Marco Lini è consigliere regionale dal 1980, era consigliere regionale del PC insieme a mio padre, poi è stato dirigente in regione, fino al 1997 al 2005, nel 2005 spacca senza che Marco Lini si candidasse, lo prende e gli fa fare l'assessore al bilancio esterno fino ad oggi. Di nuovo vedo poco. Dall'altra parte con Ceriscioli chi ci stanno, quelli che sono invece i vecchi del PD, i vecchi tra virgolette. I non-renziani, i non-renziani, ma i renziani non senza se e senza ma, ma forse con qualche dubbio, ma tanto sono tutti i renziani. Guarda che nel nostro consiglio regionale, nelle primarie in cui trionfò Bersani, c'era un renziano e un civatiano. Nelle primarie di un anno dopo c'erano tutti i renziani e uno di Cuperlo, cioè ci rendiamo conto. Questo è quello che fa male alla politica, perché la politica, l'elettore, quello che va dietro a certe cose, che sta attento, di queste cose, queste cose gli interessano poco, gli dovrebbero interessare più e gli interessa di più un programma diverso, un modo di fare politica diverso. E nel PD non c'è. Però sai che io sono sempre molto, cerco di essere sempre molto asettico. Il centrodestra è uguale. Centrodestra, l'ex centrodestra lo chiamo, esattamente la stessa cosa. Noi ce ne siamo andati nel 2000, io nel 2011, ma poi nel 2012 sono entrato formalmente in Fratelli d'Italia quando si è formato. Stai parlando ovviamente del discorso della PDL. L'ex PDL non esiste più e non è ricomponibile. Non è ricomponibile perché non ha una strategia politica alle spalle. Al di là del fatto che qualcuno è andato via dal PDL dopo di noi e governa con Renzi, la cosa già è abbastanza anomala. Ma la stessa Neo Forza Italia l'abbiamo visto tutti. Come si può concepire un partito che fa le riforme istituzionali, che tra l'altro io contesto in toto, specie quella elettorale, l'abolizione del Senato, l'abolizione delle province. Si inventano queste cose che sono solo delle sottrazioni di democrazia, poi nient'altro. Impediscono di votare. Non è che tolgono le funzioni. Fa tutte queste cose con il PD, poi improvvisamente li dicano con il PD, perché il PD, perché Renzi sceglie Mattarella. Allora, per esempio, la Lega e Fratelli d'Italia aveva come candidato di bandiera Feltri. Forza Italia aveva amato. Allora io vorrei sapere, l'elettore, il cittadino, la differenza tra amato e Mattarella qual è. Sono due attrezzi, io dico, della Prima Repubblica, persone che sono passate attraverso la Corte Costituzionale, con tutti i pro e tutti i contro, ma che non differenziano gli schieramenti. Quindi fa ridere che si possa rompere il patto del Nazareno perché hai scelto Mattarella senza dirmelo. Significa non affrontare i problemi e non volerli affrontare. E allora io dico, e ho detto a Roma, ai miei vertici, io non capisco come potrebbe mai essere possibile fare coalizioni con chi pensa che la politica sia questa. Proposito di vertici, Giorgia Meloni come la vedi? Giorgia Meloni è una persona che è inversamente proporzionale alla sua fisicità. Quindi è un gigante. È un gigante. E è un gigante perché in un momento come questo, in un momento come il dicembre del 2012, Giorgia Meloni ha dimostrato di avere gli attributi, come si dice. E ha chiamato a raccolto intorno a sé tutti quelli che non ne potevano più. Voi immaginate che noi ce ne siamo andati perché prima abbiamo creduto finalmente che il PDL potesse diventare un partito, che si facessero le primarie, si decidesse un qualche cosa. Le primarie ce l'hanno revocate con un sms telefonico. Io quel giorno già ero in uscito, ho detto, con me, la mia dignità mi impedisce di stare ancora in un certo ambiente. Finalmente, per fortuna, Giorgia, che era ministro, che è stata ministro, che era sicura di poter continuare una brillante carriera, vista anche la giovanità, ha fatto la scelta che ha fatto e noi con mille difficoltà andiamo avanti, con mille difficoltà economiche, con mille difficoltà di ogni tipo, perché poi quando un partito è piccolo, fino a che non cresce, ha difficoltà di smisura. Nel momento in cui questa evoluzione va avanti, le difficoltà diminuiscono. Ma noi, tu hai ricordato che io, non a 13 anni, a 15 anni, mi sono iscritto al fronte della gioventù. Ma per chi ha militato nel movimento sociale italiano fino al 1993, la politica doveva essere per forza una passione, non poteva essere un trampolino o un andare dietro al risultato. Significava credere in qualche cosa, portare avanti certe idee. Poi la carica che tu hai è una cosa che può venire e può non venire. Tu dimendichi dunque una certa coerenza del pensiero politico, che magari non vedi in altri componenti politici. Ma è peggio questa seconda repubblica o la prima repubblica? Guarda, io data l'età, e per il fatto che ho cominciato tanto presto, ho un osservatorio, voglio dire privilegiato, ma quasi. La prima repubblica aveva mille difetti, noi l'abbiamo contestata in pieno, il debito pubblico nasce nella prima repubblica. E' una prima repubblica che ancora ci deve rivelare tanti segreti. La politica estera di assoluto servilismo nei confronti degli americani è la politica estera che ancora nasconde tanti segreti dell'Italia della prima repubblica. Vogliamo parlare del caso Moro, vogliamo parlare di tutte quelle cose che si sono avvenute in quegli anni e che mano a mano venivano addebitate agli schieramenti, agli estremisti che c'erano di ogni parte che c'erano in quell'epoca. No, parliamo della corruzione invece. La corruzione c'era, è in dubbio, non mi sembra che dopo Tangentopoli sia diminuita la corruzione. Alcuno dice che è aumentata. Ma non so che dirti, io tante volte nelle critiche facendo l'avvocato, quando hanno derubricato il 323, che è l'abuso in atti di ufficio, nessuno se ne è accorto, perché non era il falso in bilancio di Berlusconi o altro, ma era un reato che obbligava l'amministratore a stare molto attento a quello che faceva. Ti faccio un esempio. Se tu facevi un'interrogazione, se tu facevi una richiesta di documenti e non ti rispondevano entro un determinato tempo, c'era l'abuso in atti di ufficio. Che significava questo? Forse era eccessivo, ma passare alla derubricazione per cui per dimostrare un abuso in atti di ufficio devi dimostrare l'arricchimento voluto e devi trovare l'arricchimento del beneficiato dalla violazione della legge, significa non trovare mai niente. e questo ha consentito a tutti di potersi svicolare, ai vari amministratori, di poter svicolare e questo che cosa ha causato? Se tu dal basso riesci ad evitare all'amministratore un vaglio di questo tipo, il segretario generale non dava più perere di legittimità, il coreco non c'era più, io ti parlo di cose di tanti anni fa perché le ho vissute. c'è stata una libertà totale. Poi oggi che cosa avviene? Con la legge sui sindaci che è venuta fuori dal 95 in poi, dal 93 in poi, il sindaco ha un potere assoluto, il sindaco ha un assessore e lo caccia. Ma quell'assessore non succede come il regione che rimane consigliere regionale e quindi uno deve stare attento perché poi se lo ritrova contro. Quello va fuori e perde ogni ruolo perché non è più consigliere. Quindi gli anomalie ce ne sono state tanti. Oggi c'è un altro tipo di corruzione che è diversa, è peggio. È la qualità del politico che è minore. Quello che noi abbiamo letto e di cui si parla in questi giorni, poi io ne vorrò parlare diffusamente perché è una posizione personale. Infatti arriviamo al discorso delle spese pazze della regione. In questi giorni sono concluse le indagini infatti della Procura della Repubblica di Ancona e 66 avvisi di garanzia, 66 indagati per peculato e concorso in peculato. Certo, certo. Notizia di reato bravissima. Vedi? Da quello che tu leggi e da quello che noi abbiamo vissuto capisci di quanto si è degradata la politica. Qualcuno potrebbe pensare che io parlo contro me stesso. Io non sono affatto contro le indagini, contro chi vuole sapere quello che io ho fatto con quei soldi. Ci mancherebbe altro. E se qualcuno li ha utilizzati in maniera non idonea, ci mancherebbe altro che non mi abbia colpito. Ci mancherebbe altro. Questa è una mia cultura di sempre. Però qui c'è stato un altro tipo di situazione che è ben peggiore. E che ti fa soprattutto getta discredito sulla magistratura. Perché è un'indagine a tempo. Io dico questo perché come ho già annunciato... Perché ci sono le elezioni. Io ho preparato un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura portando avanti il mio caso. Il 29 luglio di quest'anno c'è stato un Consiglio regionale in cui, l'ultimo prima delle vacanze estive, in cui mi sono alzato e chiunque può andare a vedere il resoconto stenografico e ho chiesto al Presidente Solazzi, al Presidente Spacca, di fare quello che io avevo fatto il giorno prima. Cioè mi era arrivata e mi era andata a prendere l'avviso di proroga, di richiesta di proroga delle indagini preliminari, me l'ero fatta notificare, avevo nominato un difensore, avevo chiesto immediatamente di essere interrogato. Se tutto questo, dicevo, lo facciamo tutti, dimostriamo che la politica ha un livello, ha una dignità e la politica non si fa correre dietro a nessuno. Chiaramente per fare questo c'è una condizio che tu, quello che hai fatto, l'hai fatto in un certo modo. Perché è chiaro che se io con quei soldi non riesco a dimostrare quello che ci ho fatto, ma ci sono andato a cena e non so che cosa ci possa aver fatto, quel ragionamento non lo faccio più. Io sono il primo, e lo sottolineo, che nel momento in cui verificheranno le mie spese potranno trovare anche dei difetti formali. E ci mancherebbe altro, ci potrebbero essere, non lo so. Io credo di no. Quanto le contestano? A me mi contestano, se non sbaglio, 11.650 euro complessivi in quattro anni. Perché? Che sono 500 euro. Sono 400 euro. Io sono entrato nel 2009 a luglio, quando Castelli è diventato sindaco di Nascoli, quindi ho dei mesi in più rispetto al 2010, nel 2009. Ma sono dei soldi che i gruppi hanno per legge e che dividono per i consigli regionali che hanno. Io oggi sono capogruppo di Fratelli d'Italia, quindi sono io il responsabile. Ho adottato un metodo sicuro. Il metodo sicuro qual è? Mi portano la fattura di quello che spendono, se rientrano le spese rimborsabili io faccio l'assegno. Perché funziona tutto in questo modo. Nei tempi in cui io non ero capogruppo, a me davano dei soldi e io facevo la ricevuta. Ho ricevuto i soldi, ma nessuno mi diceva o mi aveva avvisato guarda che con questi soldi mi devi portare la fattura perché le hai spesi per. Ma questa non è una scusante. Perché io non ho questi problemi. Di fronte agli 11.650 euro di spese documentate, fatturate, per tutto quello che deve fare uno che fa politica da consigliere regionale in un territorio, ce le ho, ce le ho a Iosa. Per questo motivo io il primo agosto ho chiesto di essere interrogato. perché oggi nell'avviso di chiusura delle indagini preliminari a me non mi addebitano hai fatto questo. Mi dicono non hai documentato, non hai provato quello che hai fatto con questi soldi. Era quello che io volevo fare il primo agosto. Tra l'altro tra le spese pazzi non documentate, in generale si parla, riguarderebbero consulenze, collaborazioni, telefonia, internet, beneficenza, con fondi dei gruppi, quindi beneficenza con soldi non propri. Io faccio l'avvocato. Cioè si è fatta anche beneficenza, risulta, per quello che dice la magistratura, si è fatta beneficenza con fondi non propri, affissi di libri e pranzi a profusione. Sono problemi di chi l'ha fatta queste cose. Fare di ogni erba un fascio. Io perché il primo agosto, il 29 luglio lo dico in consiglio regionale, il primo agosto chiedo di essere interrogato. Nella mia vita, come tu hai detto, io non sono stato mai abituato a scappare. Se vede qualcuno che mi corre dietro, mi fermo, mi giro e dico che problema hai. E questo vale in ogni cosa. Faccio anche una professione di un certo tipo e quindi ti immagini se io potevo avere qualcosa da nascondere se avessi adottato quel sistema. Io dal primo agosto aspetto che la dottoressa Le Boroni mi chiami. Il problema è stato che il 25 settembre, nella mia richiesta, c'è a margine della mia richiesta, all'atere, una grafia della dottoressa Le Boroni con tanto di timbro che dice che si darà corso all'interrogatorio come richiesto nell'immediato proseguo delle indagini come già comunicato al difensore. Perché il mio difensore non solo ha fatto distanza, poi andava a sollecitare il mio interrogatorio. Io non ho mai visto un inquirente che scappa di fronte a uno che si vuole fare interrogare. È il contrario di solito, no? Mi è un caso anomalo. Quindi io avrei chiarito tutto. Poi poteva andare sotto processo, non sotto processo. Ma chiarivo, mi dicevano che hai fatto con questa cosa. E io dimostravo che cosa avevo fatto, le mie spese, che sono molto superiori agli 11.650. Comunque adesso hai fatto un risposto a... Siccome dal 25 settembre non mi è arrivato lo stesso niente, tu capisci che io sono molto stranito. Perché capisco che questa è un'indagine in cui siamo tutti uguali, siamo tutti indagati, siamo tutti nelle stesse condizioni. Sul giornale appare spese pazze, la beneficenza, lo yogurt o altro e nessuno va a vedere quello di cui ognuno di noi deve rispondere. Nessuno sa che uno si è alzato il 1 agosto, uno, invitando tutti a farlo, ma nessuno l'ha fatto, dicendo facciamoci interrogare tutti. Allora la dottoressa Le Boroni non può dal 25 settembre non fare nulla e poi chiedere una seconda proroga delle indagini preliminari. Io ti faccio solo presente perché anche questo è molto importante. La richiesta di proroga delle indagini preliminari, la prima, è del 24 maggio. A me è stata notificata il 28 luglio. Cioè è un'indagine che deve slittare. A un certo punto si sapeva che le elezioni sarebbero svolte febbraio o marzo, poi sono finite a maggio, come saranno adesso. E questa indagine è slittata perché a settembre è stata chiesta una seconda proroga. Fino a che arriviamo all'11 febbraio con cui si notifichano queste cose. Io non ci sto a queste cose. Questo è l'elenco degli indagati tra l'altro tra diversi piceni, consiglieri Valeriano Camela, poi Giulio Natali, Paolo Perazzoli, Gian Mario Spacca, va bene, Umberto Trent, poi c'è un ex consigliere regionale che è attualmente sindaco di Ascoli, che è Guido Castelli. Tra l'altro abbiamo anche un suo contributo che facciamo tra l'altro ascoltare se la regia è pronta proprio su queste spese pazze, un'intervista fatta negli scorsi giorni. Sindaco c'è anche il suo nome negli indagati delle spese pazze della regione Marche. Sì, io non faccio parte delle spese pazze, faccio parte di un nucleo che in pratica io sono stato considerato regionale dieci anni e in pratica nel mio gruppo venivano stanziate delle piccole cifre per spese, come si dice, forfettarie. In pratica in maniera totalmente tracciabile si stabiliva un rimborso spese di circa 100 euro al mese. Allora c'è questa cosa, risulta che 600 euro complessivamente non sono giustificati. Ovviamente chiarirò questa cosa, andrò subito a precisare che quindi non ho fatto spese diverse da quelle doverose, perché il denaro pubblico è sacro, è una vita che faccio politica, è una vita che ho onorato questo principio, quindi sono molto sereno e sicuramente andrò appunto a precisare questa cosa e sono certo che la chiarezza tornerà a essere totalmente evidente. Quindi l'elemento è questo, in pratica spese forfettarie che io non ho documentato per 600 euro complessive, io ho fatto dieci anni il consigliere regionale, per questa ragione, perché il gruppo prevedeva che questi piccoli importi non fossero giustificati, quindi è una cosa perfettamente in buona fede, ma sono certo che tutto andrà per il meglio. Quindi non c'è niente di irregolare? No, no, assolutamente, io ho sempre rigorosamente, precisamente rispettato tutto, ripeto, infatti in quel periodo, è tutto del 2009, c'è questo aspetto che andrà sicuramente affrontato e risolto, massima fiducia alla magistratura e quindi sono particolarmente sereno proprio perché il denaro pubblico, questa è sempre stata la mia battaglia, va sostenuto, tutelato, protetto, esattamente come ho fatto dal consigliere comunale, provinciale, regionale e da sindaco, è stato il mio punto di forza e resterà tale. Beh, insomma, il sindaco di Ascoli, Guido Castelli, è sereno e poi insomma ha detto, però non ci ha detto quelle 600 euro, poi come le ha spese? Io non sono sereno affatto, perché sai, vedermi arrivare una chiusura, un avviso di chiusura di indagini preliminari per peculato, io non sono abituato, né a casa mia siamo abituati ad avere questi problemi. per questo motivo, proprio perché volevo evitare tutto, volevo mettere tutto in evidenza, io adesso con il mio avvocato, non so che strategia vorremmo usare, ma non sono molto convinto di andare a portare i documenti adesso e di rendere l'interrogatorio, perché diventa, mi rinviano a giudizio su queste cose, voglio vedere che cosa saranno in grado di fare nel momento in cui per otto mesi avevano tutto a disposizione, tutto, uno che ci sarebbe andato anche il 15 agosto alle 3 di notte, se loro avessero voluto, non lo hanno voluto e questa è la cosa che non mi piace, non lo hanno voluto non perché, non si sa il motivo, perché questa inchiesta doveva arrivare fino all'ambire elezioni, io vi dico solo quello che è successo in Emilia Romagna su casi quasi analoghi, forse più grave, che ha votato il 30% in Emilia Romagna, io non vorrei che tutto questo, finito il fenomeno grillo, porti a un astensionismo di questo tipo anche nelle marche, perché questo poi è il più grande oltraggio che si può fare alla democrazia, riuscire a non mandare la gente a votare, perché se la gente, se una percentuale minore di votanti producesse, come dovrebbe provocare? un minor numero di seggi assegnati, allora sì che sarebbe una cosa simpatica, invece qui il minor numero di votanti rende proporzionalmente le stesse maggioranze, le stesse minoranze con il fatto che le persone che si astengono dal voto, dallo schifo che vedono leggendo che 66 persone sono indagate per peculato, per questo io non sono affatto sereno e affatto tranquillo, sono molto incazzato, scusatemi la parola. Sicuramente non è un grande biglietto da visita per avvicinarsi alle elezioni regionali di maggio, questo è in dubbio, facciamo una piccola pausa pubblicitaria, torniamo tra qualche istante e rientriamo sulle spese pazze. Ben rientrati dopo la pausa pubblicitaria, siamo con Giulio Natali, il consigliere regionale delle Marche per Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, stiamo parlando delle notizie della settimana, queste spese pazze, presunte spese pazze, con l'avviso di conclusioni delle indagini della Procura della Repubblica di Ancona, un bel polverone in avvicinamento proprio alle elezioni. Sì, sì, ma poi è un polverone che si inserisce in tutta una, non voglio dire in una critica, in un allivore che l'elettorato, che il cittadino in genere ha verso la politica, che è stato alimentato sicuramente strumentalmente, ma anche dai comportamenti della politica. A me quando in tanti parlavano del fenomeno del grillismo che adesso pare in discesa, io ho sempre sostenuto che il fenomeno grillo era il termometro, la patologia era un'altra. Cioè se noi criticavamo grillo forse era il caso che invece di criticare il termometro, di rompere il termometro, curassimo la patologia, la febbre c'era. E che era dai comportamenti e dalla mancanza di risposte che il cittadino ha dalla politica. Oggi viviamo di comunicazione, tutto passa freneticamente, abbiamo un Presidente del Consiglio che è un maestro in questo, più un maestro del leader del PDL, dell'ex PDL, attuale leader di Forza Italia, che effettivamente nella gag di Crozza si vede tutto. C'è proprio la continuità in un modo di fare, cioè in un modo di buttare ogni giorno nuove notizie senza che poi a quelle notizie segua niente. Gli 80 euro sono stati uno strumento per la campagna elettorale per l'europea. Le tasse sono aumentate, con chiunque voi parliate, di qualsiasi ceto sociale, di qualsiasi livello, ti dicono io che quest'anno ho pagato molto di più. Allora, però, nonostante questo, va tutto bene come sentivamo prima, lo sentiamo adesso. Tu non sei per questo tipo di politica, ma diciamo urlata, comunicata in questo modo, anche prima ti riferivi magari a un vecchio modo di fare politica, magari dove c'era più preparazione rispetto alla comunicazione mediatica. La politica debba essere un servizio. Se uno lo vede come servizio, prima cosa devi avere un lavoro, precondizione, devi avere un lavoro. Non la politica come lavoro. Pensa che in consiglio regionale io ho dovuto fare una lotta cerrima con Paolo Perazzoli, perché Paolo Perazzoli diceva e ha sostenuto con un emendamento che se tu hai un 7,40 più grande di quello che prendi come consigliere regionale, dovresti prendere la metà come consigliere regionale. Questo che significa? Che tu vuoi eliminare dalla politica chi campa del suo. Chi campa del suo, io ho sempre sostenuto questo, ha un'esperienza diversa rispetto a chi campa di politica, perché vede il mondo in un altro modo, perché ha dato dimostrazione al mondo che sa fare qualche cosa. La politica ha bisogno di persone che sanno fare, non di segretari. Oggi la politica è composta da segretari. Questo è il vero problema. Perché la gente non crede più nella politica? Perché vede la politica come una professione. Come persone dicono, questo si è sistemato. Fare il consigliere regionale per chi non fa niente è terno all'otto. Se tu la devi abbinare a un'attività tua che devi portare avanti, non è più un terno all'otto, è un ambo forse, perché è una cosa estremamente difficoltosa. Ricordiamo quanto guadagna un consigliere regionale. La mia busta paga è composta da due voci. Una voce di stipendio, di indennità, è un'altra parte di diaria. In tutto arriva a 6.400 euro. Ma stiamo parlando al netto? Questo è il netto, certo. 6.400, sapete tutta la storia dei vitalizi. 6.400 euro che è uno stipendio più che ricco, anche se le marche vengono considerate una delle regioni più virtuose. Ma il problema poi non è tanto questo. È che noi dovremmo dare per quei 6.400 euro. La gente si aspetta dall'amministrazione regionale che a fronte di questa spesa ci siano dei risultati. Allora se noi parliamo di sanità, voi capite quali sono i risultati. Ma voi vi immaginate perché io sostengo l'assoluta non credibilità di Renzi. Quando tu vuoi risparmiare, se tu parli di risparmi, il primo momento da sopprimere è la regione. Ne devi accorpare al massimo 5 in tutta Italia. Quando noi parliamo di sanità, parlo della mia area, noi abbiamo un'area vasta che è Ascoli e San Benedetto. E ti dicono c'è una crisi, c'è tutto questo, se ti devi fare un appendicito e tu di Ascoli lo puoi fare a San Benedetto. Giulianova e Teramo perché non hanno lo stesso... Eh ma no, quella è un'altra regione. Sapete quanto costa una regione? Sono cifre iperboliche. Allora pensare di abolire le province senza mettere mani sulle regioni. Perché? Perché le regioni sono una fucina di danaro da riciclare per i partiti. E la non credibilità di chi amministra in questo modo ormai si vedrà, mano a mano si vedrà. La regione non ha senso. Le regioni che hanno stato fatte nel 70, che le ha volute il PC, dovevano portare all'immediata abolizione delle province. Che avete visto voi? Cosa che non si è fatta. Cosa che non si è fatta? Vi immaginate voi che ogni consiglio regionale può determinarsi il proprio stipendio? Cioè ma non sarebbe più logico che lo Stato dicesse. Allora i consigli regionali hanno questo tipo di indennità. La diaria è di tot a chilometro di distanza, punto. Ma vale per tutto. Tu saresti per l'abolizione delle regioni? A questo punto sì. A questo punto sì. Se la regione Marche non dovesse deliberare per sei mesi, se ne accorgerebbero quanti cittadini secondo voi? È una domanda che faccio a tutti. Se noi non ci riuniamo, dico sempre, sai chi se ne accorgi? In sanità, in consiglio regionale, non passa nulla. Fanno tutti in giunta. Allora che ci stiamo a fare noi? Ci stiamo per rappresentare le istanze nei nostri territori e cercare di acuire determinate situazioni per far sì che si modifichino. Senti, a proposito di sanità, sono tante le vicende dall'ospedale unico di Vallata? Fantomatico. Queste sono le parole del direttore dell'Asur, del direttore delle aziende ospedaliere di Galassi. Fantomatico l'ho chiamato l'ospedale unico di Vallata. L'ospedale unico non ci credi? Fantomatico. Non sono parole mie. Ma se a Fermo, dove l'ospedale di Fermo nuovo è stato appaltato e non possono partire i lavori perché non c'è un euro. Voi immaginate che qualcuno può pensare che in un tempo reale si faccia l'ospedale unico di Vallata tra Ascoli e San Metto del Tronto. Ci vogliamo prendere in giro? Facciamolo. Io non partecipo a prendere in giro il prossimo. Quello di Ascoli rimarrà ad Ascoli come il Mazzoni. Quello di Ascoli rimarrà ad Ascoli sempre più penalizzato, sempre più povero, sempre più svuotato così come quello di San Benedetto e magari qualche privato convenzionato alla fine farà qualche bello spedaluccio vicino e attrarrà l'utenza perché questa è la strategia della Regione Marche. L'area vasta 5 è l'unica area vasta che ha una mobilità attiva notevole. Cioè tanti vengono da fuori e vengono... E tanti sono gli abruzzesi che... Tanti sono gli abruzzesi. Peccato che tutto quello che arriva come mobilità attiva nell'area vasta 5 i quattro quinti vengono attratti da quattro strutture private convenzionate. Allora capiamoci. Dobbiamo essere chiari nelle cose da proporre ai cittadini. Noi invece vogliamo nascondere la difesa della sanità pubblica che non facciamo. E allora non va bene questo. Certo. Poi c'è la vicenda della sanità, ecco, al di là dell'ospedale unico e stiamo vedendo tra l'altro le immagini del Mazzoni e di Ascoli. La vicenda del Moro, vicenda della nomina del direttore dell'area vasta 5. Lei ha scritto diversi, insomma, unicati, riprendendo anche quanto affermato già da Medeo Ciccanti. Lei ritiene illegittima la nomina del direttore dell'area vasta 5. Io non ritengo illegittimo niente. Il dottor Genga, che è il direttore dell'Asur Marche, ritiene illegittima la nomina del direttore dell'area vasta 5. Sia chiaro. Io ho chiesto. Ciccanti ha suscitato un problema. Io ho ritenuto che fosse essenziale, necessario e obbligatorio approfondire se nell'autocertificazione che aveva fatto il dottor del Moro per entrare nell'elenco degli idonei quella autocertificazione corrispondesse ai suoi documenti. Ho avuto i documenti, li ho guardati, li ho rimessi all'Aggiunta regionale. L'Aggiunta regionale è incaricato della comparazione il direttore generale dell'Asur Marche che ha espresso il suo parere. Lì finisce la vicenda. Poi è subentrato un altro tipo di vicenda che è interna alle primarie del PD e questo è vergognoso perché non capisco cosa c'entri la sanità con le primarie del PD in cui avviene questo e io quello che dico glielo dimostro dalle note avverbale dell'Aggiunta che io ho richiesto e che ho. Io ho questo grande difetto che le chiacchie mi piacciono poco. Vado molto per documenti. Che cosa viene fuori? Che il dottor del Moro telefona a tutti quando viene Marcolini e Ascoli per le primarie del PD e che l'assessore Marcolini, candidato alle primarie del PD nella Giunta regionale delle Marche difende la posizione del dottor del Moro. Vi sembra normale questo? Questo vi sembra un qualcosa che si può fare? Io ritengo che siccome penso che la legge esista che la legalità, l'opportunità, tutte queste cose siano requisiti essenziali nell'amministrare penso che sia una cosa schifosa. Questo è quello che ritiene lei, quindi che sia comunque legato al fatto delle... Questo è un fatto. ...alla vicenda delle primarie. Questi sono dei fatti e io non li ho resi oggetto di altro ma li ho portati in bar alla Procura della Repubblica perché evidenziassero queste cose, chiamassero i testimoni di queste cose e verificassero i documenti. Quindi lei ritiene che nel momento in cui finiranno le primarie finirà anche la vicenda. Allora lei ha presentato anche l'interrogazione? Certo, anche perché non so se tu sai che dei medici dell'ospedale del Mazzoni sono stati richiamati, sono stati tanti medici richiamati dal collegio di disciplina perché magari avevano fatto interviste, avevano rilasciato dichiarazioni, una cosa è strana in questo tipo. Sono stati richiamati dal direttore dell'area vasta sulla base di una circolare già fatta nel 2008-2009 da lui rinnovata dicendo che non potevano rilasciare dichiarazioni. Tutto questo si inserisce nell'ambito del rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro diciamo. La cosa bella è che proprio martedì rispondendo alla mia interrogazione l'assessore Mezzolani mi ha comunicato che è pendente una causa tra il dottor Del Moro direttore dell'area vasta 5 e la surmarche che l'ha nominato. Allora sai, tra una dichiarazione a un giornalista e fare una causa contro il tuo datore di lavoro penso che sia molto più interruttiva di un rapporto fiduciario una causa che è in corso. Aspetto che qualcuno se ne renda conto ma purtroppo la sanità delle marche non è il problema della sanità sono problemi politici, partitici in questo momento di primari di un partito che si intersecano all'interno del pianeta sanità che dovrebbe essere una cosa molto più seria. Un problema invece prettamente sanitario che comunque in questi mesi ha tirato fuori non se ne parlava, ha completamente dimenticato è quello legato al cosiddetto eco-mostro accanto all'ex ospedale Luciani anche lì in totale stato di abbandono posso ridere insieme a te? Qui la vicenda come procede? Il dottor Del Moro io attendo ancora una risposta o non se ne è accorto ancora forse troppo impegnato nella politica che lo interessa effettivamente forse di più della sanità e nelle varie diatriba all'interno del PD io attendo ancora che mi dica rispetto a quello che io ho evidenziato che cosa vuole fare di quella cosa perché sta lì guardatela tutti quello ha costato 600 mila euro nel 2002 certo non c'era Del Moro ma Del Moro c'era nel 2010 e quindi forse l'avrebbe dovuta vedere come commissario sicuramente la doveva vedere dopo settembre di quest'anno quando io l'ho tirata fuori perché io me ne sono accorto a settembre di quest'anno non prima, mi ci hanno portato lì come io ho portato i vostri operatori perché non si trova quel punto quella situazione ancora aspetto risposte effettivamente questo non è un problema per il direttore Del Moro forse i problemi per lui come dicevo prima sono altri dal 2002 è rimasto in quello stato in quello stato pensa che con quei soldi nel 2002 si metteva a posto tutto il Luciani cioè la struttura sottostante si poteva mettere a posto totalmente effettivamente quindi questo dimostra che nella sanità non è che non ci sono i soldi i soldi ci sono forse ci sono anche troppi i soldi vengono non utilizzati secondo il loro uso però di fronte a queste cose che uno sottopone all'indagine degli inquirenti gli inquirenti tacciono tacciono come quando io chiedo di essere interrogato per il peculato c'è una situazione strana un po' anomala quindi questa comunque è una vicenda che va avanti senza grosse novità visto che non ci sono risposte proprio da parte io speravo che voi voi vi faceste portatori di domande chiamando il dottor del Moro dicendogli forse se non vuole rispondere a me perché gli sono antipatico non c'è problema non è questo il punto magari a voi vi risponde non esiste non è vero sono immagini fantasma sono creazioni calunniose o altro in ogni caso se magari invece sono vere potesse risultare tutto vero che cosa ci vuole fare? quindi io vi invito magari con voi queste cose potrebbe dirle più facilmente sicuramente siamo alle battute conclusive altre vicende spinose nella scuola ultimamente se ne vedono tante tante problematiche anche di ascoli città e provincia in questo momento c'è un'altra un'altra inchiesta che è relativa alle partecipate c'è la start per esempio dove l'inchiesta si è allargata lì un milione di euro se non sbaglio di sì un risarcimento chiesto di un milione di euro nei confronti dell'ex direttore che idea della start o la start io non penso lì c'è un organo di gestione e un organo amministrativo certo che l'organo di gestione che non un organo di gestione che non si rende conto di mancati conferimenti un po' piuttosto strano anche perché poi ancora più strano è il fatto che non se ne siano accorti le visori dei conti perché le visori dei conti che poi sono nomine politiche sappiamo tutti le visori dei conti due di una parte una di un'altra a seconda delle varie maggioranze ci sono messi lì a posto quindi mi meraviglia addirittura che quello di minoranza non se ne sia accorto perché dovrebbe essere quello che pungola di più gli altri anche se essendo professionisti dovrebbero un attimo estranearsi dal ruolo politico io quanto alle varie situazioni sono il presidente di una commissione di inchiesta che si è interessata nel caso Asteria in regione martedì c'era la discussione in aula e martedì lo erano gli stracci lo erano gli stracci in questo senso la relazione è stata prettamente tecnica addirittura siamo riusciti ad uscire con una relazione unitaria prima volta nella storia della regione Marche e questo forse è un atto di buona politica perché l'abbiamo ognuno di noi dei vari componenti mantenuta proprio alla realtà però la realtà che è uscita fuori è una realtà epocale ci hai dovuto ricordare il caso per i telespettatori caso Asteria è il caso di un immobile che il punctum dolens è questo che ha 100 buchi di Monte Brandone di proprietà della regione Marche questo immobile è stato ceduto nel 2008 ad una società che si chiama Asteria che l'avrebbe pagato grazie a una legge fatta apposta non con i soldini ma con 8 progetti questa società poi è fallita dopo aver ipotecato l'immobile in maniera clamorosa ci sono indagini sia contabili che nella magistratura inquirente questa società ha investito poi in altre società che sono anch'esse fallite e quindi c'è una situazione che però ha coinvolto nella vallata del Tronto la politica della vallata del Tronto perché se uno parte da quando è cominciata questa vicenda c'è la connotazione la chiara connotazione politica di tutta questa questione e quindi martedì poi in discussione in consiglio si parlerà delle responsabilità politiche perché le responsabilità politiche ce ne sono e tante indiscutibili non si esce più non è che sono interpretazioni di ognuno di noi quando si fa una legge apposta per la prima volta e si fa utilizzare in un caso e non si utilizza più io non aggiungerei altro quando poi tu pensi che precedentemente a questa legge a questo acquisto quella stessa società deteneva quelli immobili in concessione con il richiamo a una legge per cui pagava il 10% del canone in base a una legge che non c'entrava niente con l'attività di quella società tu capisci che c'è poco da dire quindi quando tu pensi che nel 2008 la regione ci fa infilare la Svim che è una branca della regione e gli dà ulteriori 100.000 euro per comprare le azioni e non controlla nulla fino a che arriviamo al fallimento del 2013 tu capisci che c'è poco da dire martedì parliamo delle responsabilità politiche si terranno fuori i nomi e i cognomi di componenti della giunta di tutto perché non è che poi con il danaro pubblico si possa sempre scherzare secondo me non si può scherzare non si poteva scherzare neanche ai tempi delle vacche grasse figuriamoci oggi ricordiamo che tu sei presidente di questa commissione di inchiesta sul caso Asteria siamo arrivati alla conclusione comunque di questa chiacchierata con Giulio Natali consigliere regionale delle Marche le elezioni prossime comunque una battuta conclusiva ti ricanditerai? io mi ricandido per responsabilità per responsabilità e tu capisci che andando via da un partito grande pseudo grande sicuramente più grande di quello in cui sto a un certo punto della legislatura non è che ho fatto ho messo sul tappeto delle cose per favorire la mia rielezione ho preferito come sempre nella mia vita devo dire andare dietro a questioni più serie che secondo me sono più serie ognuno di noi deve vedere come ti dicevo prima la politica come servizio non come altro non come poltrona o proprio posto di potere quindi questione di alleanze questione di alleanze in questo momento le vedo te lo dicevo prima io non capisco come potremmo mai essere alleati di chi litiga correnze il lunedì ci rifa pace il martedì ci rilitiga il mercoledì perché Mattarella l'ho emesso sempre se sia vero che non era tutto un accordo perché io ho una mia filosofia molto interpretazione molto diversa perché voleva Amato io ricordo Amato come quello che nel luglio del 92 mise le mani nei conti correnti degli italiani e ancora oggi qualcuno ha l'audacia se non l'improntitudine di proporlo può essere tutto meno qualcuno che sta con me però rimanendo in tema regionale si parlava di Spacca quindi a Spacca c'è un ragionamento diverso il presidente Spacca è entrato in conflitto con Solazzi e tutto un suo mondo con il PD noi aspettiamo di vedere che cosa avverrà certo c'è anche un centrodestra che vorrebbe Celani candidato ma Piero Celani candidato ma il centrodestra non esiste perché io che faccio il capogruppo di tre persone in consiglio regionale quattro con me nessuno ci ha chiamato per dire che cosa vogliamo fare quindi pensano forse di poter fare riedizioni di quello che hanno già fatto con noi non le fanno a noi ci interessa un programma ci interessava a questo punto un candidato da scegliere con le primarie quando ci fanno i nomi io rido perché Celani è un mio ottimo amico l'ho detto più volte e rivendico la sua amicizia ma la metodologia ma non la sua candidatura la metodologia nelle scelte è una cosa molto importante il metodo certe volte non voglio dire che vale più del merito ma si accompagna al merito Piero Celani sarebbe candidato di chi? di Forza Italia? di chi? di chi altro? cioè noi dovremmo fare questo per quale motivo? perché all'interno di una di una situazione nazionale noi siamo con Forza Italia non ci saremmo andati via sarebbe stato facilissimo restare lì e stare in Forza Italia tanta gente che veniva da Enne sta tranquilla e pacifica in Forza Italia per quale motivo? perché preferisce a logiche politiche di ragionamento di altro altre situazioni e non capisco perché noi che non le abbiamo preferite dovremmo continuare a dare il sangue per mantenere certe situazioni benissimo questo è il pensiero di Natali ospite oggi Giulio Natali lo ringrazio buongiorno buon pomeriggio a tutti e noi con 45G invece ci ritroveremo domani per un nuovo appuntamento arrivederci a presto a presto Grazie a tutti